Cari amici, care amiche, un piccolissimo short dove vi mostro un libro molto importante di Guido Forno, l'azione magica a distanza. Non è facile da reperire ma potete comunque trovarlo sul web digitando Guido Forno. Questo libro è essenziale per il vostro sviluppo, magico, spirituale per ottenere tante tante cose praticando da subito. Quindi carissimi e carissime fate del vostro meglio per reperire questo libro di Guido Forno. Si trova anche sul web, su ebay. Cercate, cercate. Un saluto da Simonetta.